musica musica vediamo quale provo adesso cos'è? wow che bello cos'è? lo squalo ehm ehm il bo, il bolto che bello qui si è lungo fino a un metro adesso ne apro un'altra wow che bello ma cos'è? blu mi stai già prendo si mamma guarda questo che bello mamma mia che bello sembra blu ti sono piaciuti però mamma carte dopo raccoglie che bello, questo piacerà a Tina perchè è praticamente un blu viola quanti scherzi fa la Tina? ecco lo sapevo, non è che li ho presi per gli scherzi ma li visti sono lunghi fino a 32 cm vabbè se mai ne trovo uno doppione arrivano fino a un metro bellissimo guardami questo che bello non ci credo, guarda che bustine enorme no veramente li ho visti e ho detto sicuramente guarda questo bingo bello bello, ma sono tutti bellissimi è nuova almeno questa collezione almeno ti diverti un po' infatti, so che ti piacciono e poi ci sono, c'è questo lì vicino da colorare ci sono anche delle cose per passare il tempo da colorare da fare dei giochini senti io vado a fare delle commissioni mi sono regalata e finisci di giocare, raccogli tutto perchè io te li ho regalati va bene ma lo stomarasma deve sparire perchè io arrivo e voglio trovare tutto in ordine ok? va bene ci vediamo dopo ciao mamma ciao dopo Fili 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 dove è andato? ma ti c'è me ne sono tornata dalla spesa e tu hai lasciato ancora tutto sto casino guarda meno male che gli ho detto mi raccomando raccogli cioè veramente che disastro cioè pazzesco pazzesco bustine dappertutto le collezioni come sempre le devo mettere in ordine io oh mamma non ha buttato nemmeno le bustine vuote cioè veramente una cosa pazzesca eh mi ha lasciato il marasma così poi me la devo vedere io ma se ti becco mannaggia il box qua ma cosa c'è? una l'ha lasciata ad aprire cosa c'è? ma che ci fa sta roba? Fili non fare scherzi continuo a dire non fare scherzi ma cos'è sta roba? ma che cos'è? cioè qua ci sono i volantini che ci fai nel box questa bottiglietta? poi ma che colore ha? è più strano perché ha lasciato una bustina dai pippo ti prego in questa casa non si può avere un minimo di tranquillità un minimo è bello fresco cioè non riesco a capire mmm che buon profumo un profumo un profumo un profumo pazzesco mi viene voglia di berlo però cioè non lo so mi devo fidare non riesco a resistere mmm è buonissima ma cos'è? mmm qualunque cosa sia l'idea pippo è davvero buona aspetta ma non so se è stata una buona idea bere questa roba va bene no no non ma no no Grazie a tutti.